Nella puntata di Accordi e Disaccordi di oggi 19 maggio 2024, Marco Travaglio ha risposto con vemenza alle affermazioni di Bruno Vespa riguardo la cancellazione del confronto elettorale per le prossime europee tra Giorgia Meloni e Elislein da parte della Gcom. Luca Sommi introduce la replica di Travaglio, il suo monologo, menzionando come Vespa avesse coinvolto personaggi del passato come Santoro, Biaggi, Luttazzi, Benigni e lo stesso Travaglio in un suo editoriale nelle dichiarazioni che coinvolgono anche il giornalista Marco Travaglio, il direttore del Fatto Quotidiano, nelle dichiarazioni di Bruno Vespa riguardo la cancellazione di questo confronto. Per tutti coloro che si fossero persi la puntata in diretta di Accordi e Disaccordi che potrete poi rivedere sul sito del canale 9 in streaming, e per tutti coloro che invece hanno voglia poi di commentare insieme a noi quanto abbiamo ascoltato da Marco Travaglio, dunque vi aspetto nei commenti sotto il nostro podcast Radio Puginioner, vi do il benvenuto a questo nuovo episodio ed esploriamo insieme il monologo di Marco Travaglio, molto molto interessante su Bruno Vespa e direi molto anche ironico in certi momenti, ma esploriamolo insieme e poi andate a rivederlo naturalmente, a riascoltarlo in dettaglio nelle prossime ore. Marco Travaglio inizia il suo monologo sottolineando che da mesi si preparava ad un duello tra Meloni e Schlein, una mossa studiata per presentare le elezioni europee come una sfida esclusivamente tra fratelli d'Italia e il PD. Travaglio critica aspramente questa strategia definendola una truffa, poiché entrambe le leader sono candidate finte alle elezioni europee, utilizzando il loro ruolo di leader solo come un palcoscenico mediatico. Travaglio in effetti nessuna delle due andrà in realtà poi a sedere nel Parlamento europeo. Travaglio attribuisce a Bruno Vespa la responsabilità di questa operazione, descrivendolo come una figura opportunista che ha sempre servito i potenti di turno. Fa un'analisi della carriera di Vespa, dipingendolo come un giornalista che ha sempre seguito le veline del potere. Ricorda episodi controversi come quando Vespa nel 1969 annunciò erroneamente che Pietro Valpreda era il colpevole della strage di Piazza Fontana e nel 1980 ipotizzò che l'esplosione di Bologna fosse dovuta alle cucine di un ristorante. Travaglio prosegue evidenziando come Vespa si vanti di essere un allievo di Gianni Letta contrastando questo con il modello di giornalismo indipendente rappresentato da figure come Montanelli, Scalfari, Biaggi. Sottolinea ironicamente che Vespa, a differenza di Montanelli, non ha mai mantenuto una distanza critica dai politici, anzi ha sempre cercato di ingraziarsi con loro condividendo pranzi e cene e ricevendo favori in cambio. Il monologo di Travaglio è una sequenza serrata di accuse e sarcasmi in cui l'autore non risparmia nessuno. Ricorda come Vespa abbia dato spazio a personaggi controversi come la Franzoni, Previti per esempio, Mannino Dell'Utri, Andreotti, persino il figlio di Irina permettendo loro di attaccare i giudici e PM che li perseguivano. Ricorda come la Rai pagò 260 milioni di lire a Scattone e Ferraro per un'intervista nonostante i beni fossero sotto sequestro. Travaglio continua spiegando come Vespa, grazie al suo show Porta a Porta, abbia costruito una rete di potere e favori gestendo le apparizioni televisive come un monopolio. Descrive come Vespa sia riuscito ad influenzare anche i politici di sinistra rendendoli partecipi del suo sistema. Evidenzia come il programma abbia quadruplicato le sue serate settimanali grazie a decisioni politiche favorevoli. Uno dei punti più critici riguarda il comportamento di Vespa durante le campagne elettorali. Travaglio accusa Vespa di essere un sostenitore dei governi di larghe intese e degli inciuci, attaccando sistematicamente chiunque faccia opposizione. Usa l'aneddoto di quando Vespa, durante un litigio tra Bossi e Fini, invitò solo Fini in trasmissione per evitare di destabilizzare il governo Berlusconi. La critica di Travaglio si fa ancora più pungente affermando poi che se le prove del Watergate fossero state consegnate a Vespa, lui le avrebbe insabbiate per proteggere il governo. Descrive Vespa come un uomo di potere che elude le regole quando gli sono sfavorevoli, citando il suo contratto d'artista con la RAI, che gli permette di guadagnare oltre il limite salariale imposto. Il monologo culmina con Travaglio che accusa Vespa di essere il maestro del parlar d'altro, distogliendo l'attenzione dalle notizie scomode per i potenti. Ricorda episodi specifici in cui Vespa ha evitato di parlare di condanne importanti, preferendo argomenti di intrattenimento o completamente fuori tema. In conclusione, Travaglio stasera denuncia l'ipocrisia di Vespa nel criticare lui ed altri giornalisti per aver violato la par condicio nel 2001, mentre lui stesso utilizza il suo programma per attaccare i suoi oppositori politici senza contraddittorio. Sottolinea come Vespa abbia insultato Michele Santoro, candidato all'Europè, in prima serata, e come abbia promosso Elie Schlein come leader dell'opposizione, che è una carica inesistente. Ma Travaglio termina il suo intervento con un colpo di scena, affermando che per Vespa la par condicio significa semplicemente leccare i potenti con la stessa intensità. Chiude con una nota sarcastica, dicendo che porta a porta, a porta a porta, nessuno rischia nulla perché il massimo rischio è scivolare sulla bava. Insomma, riferendosi a quanto sia Lecchino, secondo lui, Bruno Vespa. Bene, questo intervento ironico e pungente di Marco Travaglio questa sera. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento al prossimo episodio di Radio Pugginio NER.